Salve a tutti! Oggi vi presentiamo il tostapane digitale Electrolux 7800 Expressionist. Tostapane in acciaio inox di dimensioni classiche tosterà, scalderà e scongelerà facilmente i nostri cibi. All'interno della scatola troviamo la tostiera, una griglia pieghevole, un bassoio raccogli briciole estraibile, il libretto delle istruzioni e la garanzia. Possiede due vanni di tostatura XL che permettono la doratura dalle fette di toast a grosse fette di pane. Dai tasti di controllo possiamo scegliere la nostra tostatura, regolare fino a 7 livelli di riscaldamento con le freccette dove regoleremo anche il timer, il cui conto alla rovescia lo visualizzeremo sullo schermo LCD. La funzione Lift and Check, solleva e controlla, permette di controllare la tostatura con una pausa digitale. Basterà reinserirlo entro 10 secondi e il timer ripartirà da dove si è reinterrotto, continuando la tostatura del pane come da programma. Inoltre troveremo le funzioni scongelamento e scaldapanini che si arriverà anche grazie all'utilizzo della griglia pieghevole in dotazione. Inoltre il lungo cavo potrà essere riposto comodamente alla base del tostapane nel vano portacavo. Per la recensione completa sul prodotto seguite il link nella descrizione e ricordatevi di visitare